10 5 4 3 2 1 vai 400 alla madonna sinistra 3 aggancia per destra 4 ape lunga piena 200 è il palo sinistra 5 50 sinistra 4 buona 30 destra 5 50 e alla zebra sinistra 2 apre 100 allo specchio destra 2 150 e alla rete sinistra 2 secca 100 dosso e sinistra 3 lascia diventa inversione sinistra e sinistra 3 scende e scivola 30 30 destra 5 in inversione sinistra 30 destra 2 150 destra sinistra 5 100 100 e la zebra stacca forte destra 2 per sinistra destra 5 in sinistra 4 tossata piena 30 sinistra 2 sporca 150 150 destra 3 taglia sporca per sinistra 5 in destra 2 taglia per sinistra 2 taglia per destra 2 taglia 50 e la casa sinistra 2 300 il can entra sinistra 20 sinistra 5 lunga in destra 3 30 destra sinistra 3 veloce 30 sinistra 5 30 destra 4 sporca in sinistra 3 in destra 3 in sinistra 3 taglia 30 destra 3 in sinistra 3 gira su rotonda per destra 5 taglia molto per sinistra 5 2 tempi 200 e alla zebra destra 2 bastarda sconnessa in sinistra 3 apre piena 100 e alla zebra destra 4 80 al palo sinistra 4 30 ritarda sinistra 2 50 destra 5 50 e a rail destra 2 taglia 100 al cartello attenzione stacca sinistra 2 30 destra 5 100 vai 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 badù 4 25 5